si chi è? buongiorno posso entrare? prego prego si accomodi io mi presento mi chiamo maddalena e vengo per conto di mio figlio e perché non poteva venire direttamente suo figlio mio figlio per ora ha un problema dicevo non può venire va ci siamo capiti e cosa desidera? io volevo informarmi se c'era lavoro per mio figlio perché per ora ha un problema diciamo giudiziario e appena esce vola lavorare che problemi ha il suo figlio? sbaglio giudiziario è stato arrestato si per errore si ha visto a nascere roppo romane e niente e lei ha lavoro per caso da offrire? si qualcosa ci sarebbe ma cosa sa fare suo figlio cioè come curriculum che esperienze ha? mio figlio diciamo no come ha detto scusi che esperienze ha? curriculum curriculum tutta una mica parola curriculum no senta vero che quello io l'ho apposto non cominciamo a fare discorsi perché me ne sto andando ah allora parliamo del lavoro mio figlio sa impastare tutte queste cose diciamo ma noi siamo un'azienda di detersivi che c'entra? ah ho capito e che può fare mio figlio? che può fare? un biscottificio un'azienda dove no 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 mi piace questa cosa di detersivi mi piace questa cosa di detersivi chi può fare mio figlio? e che vanno facciare nella ditta di detersivi? non lo so cercate cassiere ma lo faccia venire quando finisce questo errore giudiziario magari facciamo va bene va bene allora poi io dico di chiamare direttamente a lei? sì sì le do il bigliettino da visita oh ok la ringrazio arrivederci arrivederci